C'è una vecchietta saggia che ha circa 12 anni, che è la pastora tedesca, che come al solito usa un po' la bocca e un po' l'abbaio per cercare di calmare gli spiriti. Il piccolo Totò con il cappottino è castrato e il mio Border J, diciamo che sta usando un po' troppo. Il tuo piccino è di là, che cerca di giocare con un maschio castrato adulto, che ha 8 anni. Anche qua è un po' confuso lui, perché non capisce bene l'odore di questo maschietto. Però diciamo che così chiariamo, questa è la mia pastora tedesca di 2 anni, è giovane ma è anche molto competente, nonostante la giovane età. Ti presento un po' di cani, non sono tutti miei. Lei è una mia ammetizia che ha 12 anni. Lei è una trovatella che è stata a casa mia da 2 anni, da un mese e mezzo, è in cerca di casa. Ui piccolo Diego! Ui piccolo Diego! Aiuto! Aiuto piccolo Diego! Aiuto piccolo Diego!